Sul Mona Unita non demorde, non è ancora ufficiale, ma ci sono concrete possibilità che il ricorso al Consiglio di Stato possa essere presentato. A riferirlo è l'avvocato Andrea Gerosolimo, consigliere provinciale rappresentante della lista sul Mona al centro, dopo le sentenze del Tar dell'Aquila del 24 ottobre scorso, che hanno rigettato i due ricorsi, confermando la validità delle elezioni, la coalizione che sosteneva il compianto Fulvio di Benedetto vuole vederci chiaro. C'è ancora tempo per ricorrere al Consiglio di Stato, in quanto i 90 giorni previsti dopo le sentenze non ancora scadono. I termini sono fissati al 24 gennaio per il ricorso presentato dai legali Arianna Giampaolo ed Enrico Costanzo per le liste sul Mona Democratica e sul Mona Futura, e al 7 febbraio, in quanto la sentenza è stata pubblicata giorni dopo per quello presentato dall'avvocato Luigi Di Loreto per conto delle liste PSI sul Mona al centro e le ali per sul Mona. I ricorsi al Tar erano stati inoltrati lo scorso 9 luglio dalle cinque liste che avevano mantenuto fede all'annuncio fatto subito dopo l'improvvisa morte del loro candidato sindaco Fulvio di Benedetto, avvenuta il 15 maggio durante un incontro elettorale. Al primo turno Sul Mona Unita si piazzò al secondo posto dietro Ranelli con il 21,8% dei consensi ma al ballottaggio andò il terzo Luigi La Civita. Secondo la legge non fu possibile rinviare le consultazioni, l'obiettivo di Sul Mona Unita è quello di colmare il vuoto legislativo. Non è un'azione contro l'amministrazione comunale ma è un modo per fare chiarezza, afferma Gerosolimo, che non rende ufficiale la notizia in quanto le cinque liste ed i legali devono ancora riunirsi per fare il punto della situazione ma sono molto elevate le probabilità di ricorrere al Consiglio di Stato perché le motivazioni del Tar non ci soddisfano, prosegue, e rischiano di non dare una risposta definitiva. Se, non ce l'auguriamo, dovesse di nuovo accadere in qualsiasi altra parte d'Italia un episodio simile. Proverà a giocarsi le ultime carte la coalizione di Sul Mona Unita per invalidare le elezioni cercando di sconfessare il Tar. Visti i precedenti, l'ultimo sul cratere dell'ottobre scorso con il Consiglio di Stato che ha ritenuto ingiusta la decisione dei giudici amministrativi di escludere Sulmone e Raiano è lecito sperare. Grazie a tutti.